Sono state scale particolarmente dure da salire, quelle del municipio di Musile di Piave, per i genitori e i parenti dei quattro ragazzi morti nel tragico incidente di sabato sera sulla Iesolana. Il tricolore a mezz'asta li ha attesi oggi alle 11 per la riunione operativa in vista dei funerali di giovedì mattina. Convocati dal sindaco Silvia Susanna anche il comandante dei Carabinieri, un referente dei Vigili del Fuoco, per l'incontro alla presenza del parroco Don Flavio Zacchin. Volti segnati dal dolore, mista ancora l'incredulità per quel tragico destino che ha unito i quattro giovani e che li vedrà insieme nell'ultimo saluto stabilito definitivamente oggi in comune. Un incontro lungo alternato a momenti di pausa per cercare di contenere l'angoscia dei genitori chiamati a decidere i particolari del funerale dei loro ragazzi, di quei 22 anni appena prodati l'età adulta e già falciati dalla morte. Con loro anche Paolo Diral che sta seguendo giorno e notte la figlia Giorgia, l'unica sopravvissuta, che ha già espresso il desiderio di essere presente all'ultimo saluto al fidanzato Riccardo Laugeni e gli amici Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Matiuzzo. Cortesi ma decisi tutti i familiari hanno deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, delegando al sindaco il compito di dare le indicazioni a quanti vorranno partecipare alla esequia. Il funerale è alle 10 di giovedì presso gli impianti sportivi. Ci saranno due accessi, uno riservato per i familiari e le autorità e uno invece per gli amici, per il pubblico che vorrà essere presente. Ci sarà comunque molto personale che aiuterà le persone a trovare la giusta via e ci saranno anche le indicazioni per i parcheggi e per come muoversi poi all'interno della struttura. I ragazzi partiranno da Jesolo alle 9 e mezza e quindi saranno qua indicativamente per le 10, forse qualche minuto prima. Previsto una giornata calda a pieno sole e per questo si stanno predisponendo ombrelloni e coperture per le migliaia di persone presenti alla cerimonia con una parte dedicata agli amici e conoscenti dei quattro ragazzi. Ci sarà la cerimonia religiosa e poi un momento lasciato agli amici per degli interventi delle associazioni sportive e per gli amici. Poi solo i familiari stretti o comunque le persone che i familiari intenderanno indicarci potranno proseguire per il cimitero. Un addio alla presenza del governatore Luca Zaia a testimoniare quanto questa vicenda abbia toccato i Veneti. Un addio dove ognuno potrà compatibilmente con i tempi portare un fiore e lasciare un pensiero per i quattro ragazzi in una cerimonia dove i familiari sperano di incontrare anche i due ragazzi albanesi che si sono gettati nel canale pur di tentare di salvare quelle vite.